È necessario prendere tutti i provvedimenti possibili per migliorare la sicurezza degli operatori socio-sanitari del San Luca di Lucca. Lo hanno detto i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, presidente del gruppo regionale, e Diego Petrucci, che insieme alla presidente della Commissione Comunale Sanità, Mara Nicodemo, hanno condotto un sopralluogo e si sono confrontati con alcuni addetti dell'ospedale. Grazie anche a questo nuovo confronto siamo stati in grado, grazie a una discussione diretta con coloro che lavorano nei reparti, soprattutto in quello di psichiatria, ma anche all'interno del pronto soccorso, di capire anche stavolta quali sono le parti carenti all'interno della sicurezza dell'ospedale San Luca. Quindi sarà nostra cura, sì dal prossimo consiglio regionale, presentare con delle interrogazioni urgenti per chiedere il perché, appunto, di alcune lacune dal punto di vista organizzativo, che devono sostanzialmente essere risolte per dare sicurezza e mettere in sicurezza l'attività ordinaria del nostro ospedale. Petrucci ha poi risposto indirettamente alla direttrice generale della ASL, Casani, che in occasione della sentenza per l'omicidio di Barbara Capovani, ha dichiarato che per affrontare gli episodi di violenza contro il personale sanitario è necessario un intervento culturale ed educativo rivolto alla popolazione, dato che non è possibile militarizzare completamente le strutture sanitarie. Noi siamo d'accordo in un fenomeno culturale, ma l'educazione culturale non spetta ai sanitari, i quali hanno diritto, medici, infermieri, os, a poter lavorare in sicurezza. Se c'è bisogno di mettere polizia, carabinieri, guardie private dentro i pronto soccorsi, dentro i reparti più a rischio per difendere i lavoratori della sanità, ci vanno messi. Militarizzazione o non militarizzazione, non possiamo esporre lavoratrici e lavoratori che già lavorano in contesti difficili, molto spesso non dignitosi, pure alla evenienza che possono essere offesi o malmenati da chi che sia, specialmente di venerdì notte, di sabato notte, quando c'è un'euforia dovuta anche a abuso di sostanze o di alcol. Non è accettabile questa cosa. Non è accettabile questa cosa.